Intro Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 Siamo tornati finalmente su The Amazing Spider-Man 2 Signori vi lancio come sempre una sfida Se volete vedere domani a pranzo un altro episodio di Spider-Man E sapete che se ve lo dico, lo facciamo Dobbiamo superare i 14.000 like Ci riusciamo? Superiamo i 14.000 like Domani vi porto un altro video di Amazing Spider-Man Mi è promessa, è un debito per me Infatti oggi cercherò di registrare qualche episodio in più di Spider-Man Magari ne faccio 4, ve lo dico Quindi se domani arriviamo a 14.000 like Il video di domani arriva a 14-15.000 like Vi metto un altro video di Spider-Man Io ve lo dico e ve lo faccio, non c'ho problemi Questo perché lo faccio? Per chi vi voglio abituare a lasciare i like sotto i video di ciccio Dai ragazzi, no? Comunque vi ricordo che Ragazzi sto facendo il... Sto facendo il Sacciccia Party Il Raduna Roma Non mancate, non mancate Ce ne dobbiamo andare La mappa che ho trovato mostrava un'intensa attività russa intorno a un'azienda di trasporti La copertura perfetta per contrabandare armi in città Ah è vero, sì Ma voglio vedere dov'è diretto Mamma mia, sto costume mi piace da morire Anche se sapete che io sono uno che mantiene molto la tradizione E quello... E quello primario mi piace Forse un po' di più Però anche questo Devo ammettere che è bello Mamma mia E devo dire una cosa Guardate che questo gioco non è male Cioè io vedete adesso lo sto rivedendo da un po' di tempo E pure graficamente ci sta Pure graficamente ci sta Ma Spider-Man una foto ti prego Ma porco due Ma sì che vogliono seguire i criminali russi Presto, prima che ci vedano quelli della Pass Force Sì, sì Calma Abbiamo incendiato un'auto a dieci isolati Di sicuro andranno lì Ah Allora fate i figli di zoccola, eh Che poi stiamo cercando il nascondiglio dei russi Cioè roba grossa, ragazzi Nessuno è al sicuro Tra l'altro molti di voi mi hanno detto che sta per uscire Il gioco di Batman Ragazzi Vi pare che non so che tra poco esce il gioco di Batman Stiamo scherzando, vero? Cioè Ok, questo qua dovrebbe essere Il copo dei russi Mi devo ricordare di abbassare un pochino l'audio di Spider-Man Perché è parecchio forte E la madonna Anch'io Ma c'è un motivo se siamo durati tanto Pochissimi dei nostri uomini Sanno di questo posto Sì Invece lo sa Batman Sì Qui siamo tutti pezzi da 90 Ok Sì, sì Pezzi da 90 Ma lo vi faccio vedere io Ok Signor Batman Sì, Batman Spider-Man Distruggi deposito di armi di Grazie Grazie È vero quello che dicono del killer Che è uno di quegli ibridi Ho sentito che è solo uno Anche se fosse vero Pure Jack Lo squartatore Era un uomo Ti dico C'è qualcosa di demoniaco In un uomo Capace di tanta violenza Allora Perché non sto parlando Non sto parlando Perché sto vedendo I cecchini Come stanno messi Allora Allora Vediamo un po' C'è un cecchino là E un altro cecchino là Io questi due Me li voglio far fuori Ma non c'è un modo per andare Esatto, bello Che non mi ricordo neanche Ok Me lo faccio con molta calma Me lo faccio con molta calma ragazzi Mamma mia Non voglio allertare nessuno Cioè almeno ci voglio provare Rimettiamo qua I miei obiettivi sono tre I miei obiettivi sono tre E secondo me al momento Ne ho liberati Ben due Secondo me questo qua sopra Lo devo far fuori Anche se in realtà Secondo me se adesso noi ce ne andiamo Ho trovato Anche una cassetta Ok Esatto mi serve proprio da andare là sopra a me Però ci devo andare Ok Eh devo andare là Devo andare Speriamo Porca puttana Non so che ho fatto Via 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 No non hai visto nessuno Non hai visto Zitto 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 Me sa che ormai la caccia L'abbiamo fatta Ok me sa che caccia L'abbiamo fatta Anche perché Ho perso tre uomini Per quel carnage Se qualcuno non lo prende Pazienza Misha Stiamo facendo progresso Vai 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 Oh madonna mia Madonna mia Allora me ne posso andare Me ne posso andare Vorrei andare a killare lui Che tra l'altro Seppure è un po' Baggato Stai zitto Stai zitto Potevi diventare Quello che volevi Nel caso Si sbagliava Mamma mia Questa è lotta È lotta furiosa Ragazzi Rotta furiosa Ed è La grafica Ogni volta che ci ricevo Mi piace sempre di più Ma veramente Com'è possibile Oh Perché non sono tutti così Ma Oh Mamma mia Ok Questa l'abbiamo fatta C'è che ci sto Le armi mi piacciono come il cioccolato Fatte a pezzi E fuse Oh E Spider-Man ce l'ha detto E ce ne andiamo per di qua Non stiamo giocando assolutamente male Non stiamo giocando Assolutamente male Ce ne abbiamo Altri tre ragazzi qua Ce abbiamo altri tre ragazzi qua Non so se mi calo Esatto Infatti immaginavo Allora vi tolgo questa Ok Ti ho fatto cadere un dente Ma Te l'ho lasciato sotto il cuscino Oh che gentile che è Spider-Man Eh Viene così Facciamocelo Oh Mamma mia Mamma mia Spider-Man Non te ne ho quelli proprio Ok Meno due Ancora due Che poi sto gioco me lo state chiedendo Con una Con una voglia incredibile Questo ragazzi per me è una vittoria È una vittoria su tutti i giochi Che stiamo facendo Attivamente no Un po' tutti i youtuber Non me Perché comunque io mi differenzio parecchio Dagli altri youtuber Però Tanta tanta roba ragazzi Veramente Zitto Zitto non ti devi muovere Eh no vabbè Non sei Non sei bravo Ok Se magari Ok Qua lo Oh c'è una cazzo di ninja Ah ok ho capito Sono due ninja Due ninja Aspetta Aspetta Ok così Ok così Ok Me le devo Aio L'ho evitata L'ho evitata L'ho evitata Oh Guarda sta Allora dove sta Vieni da papà Siete un po' troppo veloce per i miei guzzi Però non mi stanno colpendo Ok Perfetti Spider schiaffi Tormentone Cosa ne pensi Vieni qua Vieni qua Vieni Dai Ritorna qua Vieni qua Vieni vieni Oh Madonna che sorca Intesa come Intesa come topo eh Ok E questo qua l'abbiamo fatto Certo che potevate investire In un sistema antincendio Eh certo Che ci avremmo fatto col sistema antincendio Ok Lui non Lui non mi ha trovato per poco Perché in realtà Non l'avevo visto In realtà Non l'avevo E' nostro Cazzo Peppe Ehi Grigori Sei tu? Si sono io Aspetta che ti vengo E' mio Ti vengo a dare un bacio Un bacio Non sanno di essere cattivi Ma non ci credo Vai Ok Questo l'abbiamo fatto Devo aumentare assolutamente Il range Di Ok Vieni qua Vieni Scusate ma Madonna quanto mi ha tolto Ah bello L'ho voluto fare Perché voglio divertire Voglio divertire A fare un po' De Combattimento Vai così No Non si spara Con le armi Non si spara Con le armi Te lo dico Non si fa proprio Dai così Perfetto Adesso Non mi ricordo La vita Come la riprendo Ma a me sa che secondo me Su sto gioco Ok Vieni qua Praticamente li sto facendo tutti Anche se non c'era Non c'era proprio bisogno Però sai che vi dico Facciamo le cose fatte per bene Allora là mi dice che posso fare qualcosa Che cosa posso fare là Ho fatto cacciare Ho fatto Madonna mia Aspettate Non lo posso steccare Non lo posso steccare Io a sto punto Esatto Gli do Gli do le botte Via 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 Oh Mamma mia La devo tenere La devo tenere più premuta Dai 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 così Lo devo far fuori ragazzi Mamma mia Dai 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 Ok Mi sa che l'ho fatto fuori Ok Là c'è un altro Però sai che vedi Con sti cacchi Un po' di vita l'ho ripresa Ok Oh curati È vero ma Ah è vero Mi posso curare Con le ragnate Mi dico E dove l'abbiamo lasciato I tuoi uomini Sono impauriti Come bambini Credo Fammelo solo vedere Così posso dire Di averlo visto Con i miei occhi Meglio ancora Scattagli una foto Col telefono Lo vedranno Con i loro occhi È svenuto Per le botte Ma me sa che l'hanno preso Ma me sa che l'hanno preso Sono buono crudo Ok Signori Io direi Che l'appuntamento Di oggi Può finire qua Se il video vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Io continuo a registrare Perché qua Devo fare Proprio una straccia Qua devo fare Una straccia Ragazzi Ma mi conviene Prima di tutto Andarmene là sopra E poi procediamo Mannaccia La Puttana Aspettate Ok Prendere calci cattivi È divertente Vai così Bella ragazzi Mi raccomando 14.000 like E domani nuovo episodio Poi 14.000 like E nuovo episodio Bella